In una giornata così tutto questo affetto che c'è stato per quest'uomo lo vedete in questa piazza. Penso che sia stato un grande uomo, un grande laziale ed è giusto rendergli omaggio. Cosa ha rappresentato nella tua vita da calciatore Vincenzo D'Amico? Ma ovviamente sono giovane, io mi ho chiesto a morirci, come era Vincenzo da ragazzo, come ho detto io non l'ho mai visto una volta serio, questo per dire che era un uomo scherzoso, però insomma in campo si faceva rispettare, è una classe incredibile, ho visto qualche video purtroppo per questioni d'età non potevo vederlo dal vivo. E quindi questo è quello che lascia tutta la sua gente qui per lui ed è giusto rendergli omaggio ai migliori. Una bandiera sicuramente, sappiamo tutti quello che ha fatto per la Lazio e questo è quello che merita.